per voi fighi che andate in montagna questo è normale vi posso garantire che io non dico che me la sto facendo sotto però porca zozza questa è una cresta è mare mammaiala non si scherza amica qui bella bella gara fino adesso due o tre punti paura speriamo che possa solo migliorare la situazione che non ce ne siano di peggio però insomma per adesso le gambe e la testa reggono speriamo di continuare così siamo al ventunesimo chilometro devo fare in tutto 34 quindi adesso la matematica non mi viene in soccorso però insomma il grosso dei chilometri è fatto vediamo la parte tecnica che dovrebbe essere questa come come l'affronto come la porta a casa ecco un pittore c'è chi perde tempo a correre in montagna e chi invece fa l'artista ne abbiamo di tempo da buttare via ma da che parte si va adesso giù di lì ah ecco perché mi sta facendo il tracciato per farmi vedere dove si va quindi non mi appoggio lì no no infatti no eh ma devi mettere su vernice fresca prima non l'abbiamo pitturato perché abbiamo visto che qualcuno ci mette sulla mano poi ho detto la mia collega eh sì è lunga eh anch'io volevo mettere un cartello di vernice fresca dai buona giornata grazie a lei andiamo avanti di qua per di qua olè adesso metto via qua si scende sembra abbastanza tranquilla guardate qua il panorama che spettacolo non vedo nessuno in giro però bello veramente veramente uno spettacolo andiamo